Una scena che solo un anno fa avremmo definito impensabile. Nel silenzio delle strade semivuote un gruppo di studenti all'esterno di una scuola protestano silenziosamente con libri e appunti per tornare in classe a seguire le lezioni. L'esatto opposto di generazioni che partecipavano a manifestazioni e proteste pur di saltare lezioni ed interrogazioni restando fuori dalle scuole. È accaduto oggi davanti allo storico Liceo Canova di Treviso con un drappello di ragazzi e ragazze da diversi istituti cittadini che si sono organizzati con panche, tavoli, generatore e a debita a distanza mascherine e hanno voluto dimostrare che fare scuola in presenza si può. Noi vogliamo tornare a scuola e i modi per tornare a scuola ci sono, sono stanziare più fondi per l'istruzione, sono aumentare i trasporti, aumentare il numero di docenti, aumentare gli spazi in modo da avere classi più piccole, cioè con meno persone che ci permettono di stare a scuola in sicurezza. Un'altra cosa che non vogliamo assolutamente rinunciare alla socialità perché sembra quasi che noi adolescenti essendo abbastanza grandi per stare a casa da soli siamo la sezione sacrificabile del paese. Cosa stai seguendo? Matematica, in realtà io faccio il Duca degli Abruzzi e non è una materia che mi piace né in presenza, tanto meno in dad, quindi faccio il triplo della fatica. preferisco molto più volentieri essere qui in presenza anche fuori da una scuola che essere a casa da solo a dover seguire delle lezioni. La socialità non è solo andare a bersi lo sprizzo in piazza, questo è quello che noi vogliamo marcare qui oggi, la socialità è la scuola, scuola vuol dire socialità.